Parte dal Centro Storico di Cosenza la decima edizione del Festival del Fumetto che con i suoi personaggi da Dylan Dog a Super Mario colorerà l'autunno cosentino proponendo al pubblico di appassionati e curiosi una varietà di offerte culturali e ricreative. Questa è la decima edizione, per noi ovviamente è un grande traguardo ed è strutturata all'interno del Centro Storico su quattro location, molto grande. Si va dal Museo del Fumetto dove saranno allestite le mostre, ci saranno i live painting, le sessioni di autografi, poi c'è il MAM, il Museo delle Arte e dei Mestieri, dove c'è un'imponente sezione videogiochi con un'anteprima nazionale che è quella di FIFA 17, ma non solo i videogiochi, c'è anche una mostra di action figures, una sui 30 anni di Dylan Dog. Al Teatro Rendano ci saranno editori, fumetterie e spazio per gli incontri e tra l'altro anche i giochi da tavolo e di ruolo saranno allestiti sul palcoscenico del teatro, quindi in una location ovviamente molto suggestiva. La Fiera e la Villa Vecchia, quest'anno è la grande novità di questa edizione, per cui abbiamo denominato questo spazio Terra di Mezzo, in omaggio al Signore degli Anelli e sarà uno spazio ampissimo dove ci saranno compagnie che faranno parate storiche, fantasy, ci sarà il cosplay contest, un'area per bambini, area food, artigiani, insomma un grande posto da vivere. Quello che stiamo consigliando noi a tutti quanti praticamente in questo primo weekend è di venire venerdì, sabato e domenica, dalle 10 del mattino alle 8 di sera, perché gli appuntamenti sono veramente tanti, insomma abbiamo qualcosa come 60 ospiti, insomma ovviamente in questi giorni alle crone che stanno rimbalzando i nomi più popolari, da Claudio Santamaria o il disegnatore americano Gilbert Shelton, che è il papà dei Freak Brothers e siamo onorati insomma di ricevere in questa edizione. Tra l'altro prenderà il premio alla carriera nell'ambito del premio Andrea Pazienza, che è un'altra sezione importante del festival, che quest'anno il premio è giunto alla seconda edizione. Tante le iniziative dunque che oltre a rendere la manifestazione particolarmente attrattiva, proietteranno la città di Cosenza in un ampio panorama nazionale e internazionale. Anche quest'anno è il centro storico la cornice di questo splendido festival che vede davvero delle presenze notevoli, importanti, di spessore e che porteranno qui davvero tanta gente. Un'iniziativa che abbiamo inserito all'interno delle nostre attività, proprio perché crediamo molto negli eventi, negli eventi culturali, come attrattori, come davvero spinta di marketing territoriale.